3-74 in Coppa Italia, i Rosa fanno fuori avversarie come Fiorentina, Lazio e Juventus per approdare sorprendentemente alla finale della competizione col Bologna all'Olimpico di Roma. Quasi 20.000 tifosi seguono la squadra in quel pomeriggio di maggio. I Rosa danno spettacolo, segnano con magistrelli, sbagliano 3 o 4 volte il raddoppio. Ma al dovantesimo un discutibile intervento di Arcoleo su Bulgarelli provoca il rigore fischiato dall'arbitro Gonella. Il Bologna pareggia e poi vincerà beffardamente i calci di rigore. Grazie a tutti! Grazie a tutti!